riproviamo a perdere attacca attacca tempio di annullo cosa vuoi fare? io e io cosa? allora ci serve un tank per sfondare all'inizio vabbè dai vi va ah certo e poi io non ti pugnalerei mai alle spalle per il maledico attaccazione bene, assoliamo neanche io di là gli 80 se ne sono andati lei si? bene vuoi abbandonare il cocco? ok lavori in questo settore? sei, sette mesi vediamo di cosa sappiamo fare la conosci? bene, hai intrecciato le braccia si mette sulle difese la morte vigila sul campo di montagna questa è questa schiena da luce entra avanti qua non lo metto a velocità eh che non serve piper che piper? piper o piper se cosa vede cosa vede manzo doppio anzo doppio anzo doppio anzo ma come fa a vedere? com'è? come le sacche fa? l'ho posta di là dietro eccola va aspettate arrivo diavolo ma no che colpo mi è sceso pincia dietro eh che se ci viene mai da pranzo sto morendo io quello perfetto andiamo vicino a me vabbè ma dai zarya che si fa ammazzata mamma mia ho salvato monoco ho salvato monoco ho salvato monoco beh non so riuscito a salvare ma ecco su questo obiettivo ci ha scritto il mio nome ehi mia ultra è quasi pronta c'è che c'è il vento sono qua lì attente no dai io voglio due questi però sono una cosa assurda questo ninja mai dire ninja hai mai visto un film mai dire ninja ragazzi abbiamo un raid lo mattiamo non lo do vabbè più è buono si è preso si è preso apposta scusi ti hai mai visto un film mi ho mai dire ninja no parola domani ti veri è mezzogiorno è mezzogiorno è mezzogiorno ha fatto mezzogiorno vai già saluti attenzione non è mezzogiorno però non è possibile dai è vero non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile guarda devi usare l'ultimo per un lavo, devi usare l'ultimo l'ultimo eh il tipo che ce la facevo no monoco bravo no teniamo un meccro dietro è andata a fare il giro da dietro ma ha ammazzato a me, pensa un po' eh pure a me, insalto ma boh ma si sa che a me, quando fanno mezzogiorno di poco mi devono ammazzare è una costante della mia partita oh è pasta però mamma mia è assurdo, poco fa finito, poi ci puoi perdere pure un sacchi minuti ma ne abbiamo due, se ce ne so due un po' più di puttana, non crepa il problema è sto ninja di merda guarda là adesso che sta facendo perdere tempo che sta facendo perdere tempo andiamo avanzea vai va va c'ho l'ultimo, c'ho l'ultimo vai va vai vieni, avanti, avanti vieni vieni te lascio di più un'altra volta bello gliel'abbiamo inculata però Noo mia mamma. Noo noo. Non ci credo. Non ci credo, non ci credere, ma me andrò Ma no, ok, va, 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 sono morto Questa è una sfiga di quelle con lo son Questa è una sfiga di quelle con lo son Mamma mia Ma stai, corri, 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 corri Mamma mia Mamma mia ragazzo Eh, io ho tirato l'ulti Sì, sì Lei ha tirato l'ulti Ma ho mattutito un po' eh Eccolo qua, metto giorno di fu Eccolo 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 Ok, ma io sto là, no? Posso mai sperare che quello arrivi Dopo quando mi ha ammazzato a me, va Mi metto stordito Eh, ammazzato Eh, questo no Eh, andamola una legge, andamola una poraccia Mamma no, go Vì Ho fatto cinque uccisioni, da Ritratto ottenuto No Non lo voglio più vedere Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so C'era pure Kibber, un altro Eravamo belle sei No, ci mancava il quinto Eh, Kibber Eh, il sesto ci mancava Eh, chi è il sesto? Eh, ho Sascha Ma Sascha è stato qui già Eh, sì Sì Tu qualcuno di voi ha avuto la skin Summer Qual è la skin Summer? Quella là delle Olimpiadi Ah, vabbè Zerria Ok Che cosa ci staventi deve essere Raga, io metto un'altra luce Guardate per lo cazzo volete Mi ha covardo di Questa Ah, lui tiene luce brasiliana Ah, io ho un Lucio centroavante Allora Ah, cosa serve? Cosa serve? Serve un back Eh, allora prendo Qui è meglio questo o questo? Rodoggo... No che abbiamo visto nel sì Ma che prendo? O prendi Rodoggo o D.Va Reinhard qua dentro dentro di questa mappa non serva a nulla Anzi, è una sì però Questa qual'era? Il pozzo? No No, questa è quella iniziale, quella con il pozzo Ah sì, è quella È il pozzo Ha ragione E allora sì, non serva a nulla Io cercherò di spingere qualcuno giù al pozzo FIA Io vado qui dietro Dall'alto Ah, abbiamo già una Tracer, un Rodoggo Sì, sì, certo Dietro, attenzione dietro, Ninja Allora ma... C'abbiamo un Bastion Abbiamo un Bastion Sì sì Buah che colpo, che colpaccia Tu hai... Mi ha sciottato Sì sì Attenzione sto Bastion, se si piazza è finita Eh No, merda Ah, è preso No C'è ma proprio... Ma ci vorrebbe quella col ghiaccio Quella col ghiaccio qua è fortissima Nooo, si è fatta ammazzarmono come andai Razer Male Se io sto vicino a Chris Oh è arrivato a qua Eh ma c'è fuoco di vita Bravi Sì Sì Mi sono messo la G2M Aspetta che arriva Tanto quella 150 HP c'è Non è che... Sì ma a parte va giù lento Proprio veloce Ah c'è uno Tanto dietro 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 Ninja dietro Sì sì Ma io sto a morire aspetta Cosa alla volta Siamo un Ninja Dietro Sì 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 Lo cazzo è andato Ma dove stiamo? Morto il Ninja Stai da guarda Triss Io del Mirino Attenzione Bella Lucio in me Lucio inside out E' uscito No! Come ho fatto? Ah Lucio può risalire le pareti Perchè Me ne ero dimenticato C'è Lucio se va giù Non vai centrale No! Pu' risalire se pareci non le pareti Veramente Eh me ne so accorto quando Eh aspetta I miei cheat grandi sti cheat Escono anche dei puzzi No! Mazza oh L'ho stoppato C'ho due road dog se non ti pu... Vai giù stavolta Guarda Guarda Non è ancora soledale Ma ci cavo fa Ma ti faccio vedere Capire a te E' un classico no? Ma perchè non so come fa Ah no con lo spazio Ok niente Ok Ma io vanno via da quella con il ghiaccio Meno male Meno male Quella qua è micidiale Ma l'altra qual'era? Eh uno è quella con la casa la Ah ok vabbè E' quello 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 Vorrei prenderlo però Tu Aspetta ora vediamo Non Monoco che fa Perchè sta decidendo Ah? Monoco Faccato Faccato Monoco 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 Mei? Eh mei pure qua Non andrebbe malaccio Non so Mordi voi Bruno Mei Quella è libero Lo programma Cotto io marmuc Sono mei Sono mei Noo se devo assaggono basti E' qua dentro E' da sto morendo Sto morendo Non lo faccio E' quelli E' l'healer di merda Eh lo so che c'è l'healer Hanno due soldati 76 eh Attenzione da dietro Che ci vengono a sfuggire Mentre stiamo Tutti in là Comunque sta l'arma di luce Quando ti pigliati Ti levano casino Ragazzi io sto spammando Ragazzi io sto spammando Però dovete venire qua Se no me ne posso curare Bravo E' caduto giù L'ha visto E' caduto giù E' ninja E' caduto giù E' un bastio E' morto E' un saltato E' morto E' morto E' morto E' morto Attenzione Non riusciremo mai a uccidere La saltetta Eh devono venire qua dentro A Eh no Merda Merda L'ult Quello qua Oh ma tu ha capito Ma tu l'ha vista da sto C'è un C'è una stanza Nel Stanno conquistando la Uo ma hanno fatto A 99% Dai Oh Ma non c'è mezzo E' uso la sta spirale Voi peccato Ma dici che devi abortir Oh no 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 Ma abbiamo vinto Come te lo vanno Chi è? No Stava scadendo Ok Ha capito che c'era un buco nella stanza Che dove io posso volare e mettermi dentro Non mi avevo neanche visto prima Eh sì Che ha fatto questo No Guarda guarda Un ult Eh l'ult giustamente Ah qua dentro Da me Eh la morta non può Eh la morta non può Ha fatto la straccia Ha bruciata proprio l'ult Oh nemici agganciati sempre Io? Sì al cerchio Quindici uccisioni Attenzione Nove Nove Quattordici Quattordici